Samuel Lucchini, appena stato rieletto sindaco di Gemonio con un vantaggio netto sul suo sfidante Fabio Felli, 66,6% per la sua lista impegno civico. Le impressioni a caldo? A caldo ringrazio Gemoniesi per questo voto non scontato. Vuol dire che il nostro lavoro è stato giudicato come un buon lavoro, come un grande impegno, come ho detto, in questa campagna elettorale. Proseguiamo in questi cinque anni con quanto abbiamo detto, con quanto abbiamo scritto, con quanto abbiamo detto incontrando la gente e ringrazio tutti i Gemoniesi, i Gemoniesi che hanno votato impegno civico, i Gemoniesi che hanno votato anche l'altra lista. Siamo l'amministrazione di tutti e saremo, come sempre, a disposizione di tutti. Si aspettava questo divario? No, non mi aspettavo questo divario. Pensavo che la corsa fosse più scheda-scheda, anche perché a due liste la sfida è sempre un pochettino più complessa. Comunque va bene, va bene così. Grazie. Grazie.